Canzoni per il pubblico in occasione di concerti, canzoni per dischi, live o in studio, ma anche per pubblicità, spot o progetti cinematografici. Gli artistici hanno abituato a produrre anche per canali differenti e diversi destinatari, ma spesso il secondo tipo di materiale, quello non prettamente rivolto al mercato discografico, passa in qualche modo in secondo piano. Ecco che di recente Mina ha voluto invece valorizzarlo e inserirlo in un album intitolato Dilettevoli Eccedenze 2, una collana proprio voluta dall'artista. Contiene canzoni utilizzate esattamente per la pubblicità e per progetti cinematografici, arricchite con diversi inediti mai pubblicati prima su disco, come per esempio Abbandono, nuova registrazione del 2023 di un brano scritto a quattro mani da Daniele Magro con Saturnino. Poi c'è anche spazio per La Palla e Rotonda, inedita in questa versione, Bossa Nova, oppure Malattia Classico Napoletano, vestito di un arrangiamento diverso, nuovo, e due strepitosi live in studio, registrazioni del 1971, My Way e Too Close for Comfort, dove un'orchestra di fiati e archi accompagna Mina con un grande swing. Completa poi l'album, una versione alternativa di Fever, e in copertina naturalmente campeggia lei una mina grafica elaborata da Gianni Ronco. Una curiosità, invece, prima di tornare agli ultimi brani citati, il video di Abbandono è stato realizzato dallo Yulm al AI Lab, quindi il Laboratorio di Intelligenza Artificiale dell'Università Yulm di Milano, e nel videoclip ci sono molteplici rappresentazioni fantastiche di Mina, che si relazionano con lei nelle sue tre fasi, diciamo così, principali della vita, da bambina, da ragazza e poi da donna matura. Grazie a oltre 30 immagini simboliche e differenti, il video intreccia la figura di Mina con la storia dell'arte, sottolineando la capacità della tecnologia più moderna di trascendere i confini temporali e poi di unire soprattutto il passato e il presente, in qualche modo anche di anticipare il futuro. Tra le novità, che sono emerse a dicembre, anche un nuovo sito web di Mina, che lo ricordiamo nel 2000 è stata la prima a lanciarne uno, e oggi, a distanza di 23 anni, la PDU ha realizzato con Social Humans una nuova versione. Si tratta di un gruppo di giovanissimi informatici guidati da Daniela Kelly, che ha messo online questo nuovo progetto che riesce a unire la parte estetica e quella musicale. Il sito contiene diverse sezioni che raggruppano in qualche modo l'immenso lavoro che Mina ha svolto per la TV, la radio, la pubblicità e anche diversi articoli, tra l'altro, che ha scritto per la stampa. Completa il sito, anche una sezione naturalmente discografica che offre in ordine cronologico soltanto e esclusivamente gli albumi e i singoli pensati e voluti da Mina stessa, lasciando invece fuori le compilation di terzi. Una curiosa sezione è quella che si intitola Dicono di lei e che riporta fedelmente tutte le citazioni di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura insieme ad alcuni fra i più bei commenti giornalistici tratti da varie testate riferiti proprio a Mina. Ma torniamo adesso ai tempi nei quali tutta questa tecnologia che va dai siti web all'intelligenza artificiale citata non c'era, cioè My Way. Si tratta naturalmente della famosissima canzone che ha visto in Frank Sinatra il principale interprete. Nel caso di Mina era stata registrata con l'orchestra di Mario Robbiani è rimasta nel cassetto della casa discografica per oltre 50 anni prima di vedere la luce proprio nell'album citato di Lettevoli Eccedenze, volume secondo. Nel video ci sono le immagini delle sue esibizioni in tv dalla prima nel 1959 alla show Raddoppia fino all'ultima nel 1978 e si può davvero dire che Mina abbia sempre fatto tutto a modo suo. Buon ascolto!